Daniele Romualdi per Cilendo Channel da Redazione di Cannalonga, mi trovo qui a Gioi nella sede dell'Associazione Christian Maio per consegnare il premio internazionale per la solidarietà su Anna Coscia tenutisi a Cannalonga in data 25 ottobre scorso. L'Associazione è nata per ricordare mio figlio Christian. Christian era uno spirito libero, una persona eccezionale e lui nel suo modo di essere così semplice, così vicino ai ragazzi, con la sua morte ha fatto in modo che venisse ricordato per sempre e proprio per questo l'Associazione si adopera per essere sempre vicino ai ragazzi, quindi con lo sport, con il beach volley e per fare in modo che il paese riviva allegramente il nome di Christian senza tristezza. Senza tristezza perché giustamente come abbiamo parlato precedentemente è venuto a mancare all'improvviso il suo cuore si è fermato e Christian se n'è andato. E voi come associazione fate qui ogni anno varie attività? Ci puoi spiegare? Il 4 luglio c'è il memorial a nome di mio figlio per ricordare proprio il giorno della sua morte e per fare in modo che sempre parlando del fatto che non fosse una cosa triste abbiamo pensato di collegarlo con i ragazzi. Quindi c'è una giornata dedicata completamente allo sport. Varie squadre non solo di gioi ma che vengono da varie, quattro squadre che vengono da varie località, formano delle squadre dei vari paesi e tutta la giornata si passa su questo campo sportivo tra musica, allegria, pranzi e si ricorda Christian così. Poi c'è il beach volley e il beach volley è ormai diventata una tradizione proprio di gioi. Ci sono molti ragazzi di fuori che prendono le ferie durante quel periodo per non perdere il beach volley a gioi perché pensare gioi con una spiaggia in pieno agosto è una cosa eccezionale. Di questo poi dobbiamo ringraziare tutti l'amministrazione comunale che ci permette di tener chiusa la strada a vari giorni, tutta la popolazione che comunque si adatta ad avere un paese in rivolta e siamo felicissimi per noi proprio per la nostra associazione questo è il momento clou. E poi ci sono vari tornei di briscola e altre piccole cose. C'è Babbo Natale per i bambini, piccole cose che servono a far sì che la comunità passi qualche giorno, qualche serata tranquillamente e tutti partecipano. È una festa del paese sempre. È una cosa molto importante infatti... Qualche volta l'anno scorso per esempio il ricavato del 4 luglio siccome abbiamo fatto un concerto per il primo anno l'abbiamo devoluto Emanuele Scifo e ci sono Ina Gazzia e Giacomo è stato... dove sei stato l'anno scorso? Lui è stato in Guatemala e quindi questo è... Quindi legate giustamente anche degli eventi a qualcosa anche di beneficenza oltre che già fare queste cose per il paese è una beneficenza sociale e c'è tanto bisogno vero? Sì, siamo autofinanziati ci autofinanziamo perché i ragazzi lavorano molto quando sono queste serate quindi tutto il ricavato veramente è puro perché quello che si ricava è tutto senza il loro lavoro cioè il lavoro loro è tutto gratis